la key league è tornata che juan 2024 inizia questo venerdì con due partite ulsan contro poang steeders quindi prima contro seconda del campionato 2023 e alle 6 di mattina e poi alle 8 e 30 andremo a vedere jean buktajan quindi insomma non sto nella pelle ed è proprio per questo che oggi sul canale faccio uscire un video in cui parlo della diciamo così della key one 2024 presentando tutte le squadre ovviamente dando una mano anche a tutti i manager di solare che si vogliono avventurare con i calciatori e le carte di che one non ci sono ancora date sull'uscita della nuova stagione però la novità importante una delle note positive dell'ultima roadmap che come sapete insomma è stata molto controversa e presa 50 piccia 50 per cento 50 e 50 diciamo in maniera proprio non positiva da una parte dell'altra molto positivamente insomma il mio pensiero l'ho già espresso lo trovate in un paio di video qui sul canale a proposito di questo se siete interessati a tutti i contenuti che mi riguardano e che trovate qua sul canale insomma basta che clicchiate sulla campanella ricordatevi anche di aggiungervi al mio telegram dove ci sono un sacco di ragazzi esperti ovviamente principalmente d'asia ma non solo e poi se proprio volete fare uno studio più deep delle questioni asiatiche vi ricordo il mio patreon che insomma si può abbonare io mensilmente o annualmente sopra scrivo non soltanto di roba legata a storare ma proprio analisi delle partite analisi delle formazioni e tutto quello che riguarda il mondo j1 e il mondo che i one ha detto questo analisi delle squadre come ho detto di che i one 2024 con la pausa con una piccola annotazione importante perché vi comunicherò un blog che secondo me è da seguire nel mondo che i league se volete insomma avere delle info sempre tenendo di conto che è un blog ovviamente quindi non ha la verità assoluta ma insomma eccoci qua iniziamo con il da gu allora da gu che confermato in panchina cioè un con ha fatto diciamo un mercato abbastanza tranquillo c'è questo grande punto interrogativo che riguarda bobsin perché insomma il ragazzo è in prestito fino a giugno 2024 dal santa clara squadra portoghese e al momento insomma le trattative per il rinnovo non sono andate ancora a buon fine ci sono state delle voci di un suo possibile trasferimento ma al momento il ragazzo sembra contanto qua diciamo che l'acquisto più importante è quello di chi o è io sino lo vedete lì che arriva dallo yokohama che ha retrocesso in j2 nel 2023 insomma e che va a rimpinguare la rosa dei stra partenti in difesa ricordiamo joe jim wu è andato al gimchon sang mu quindi è partito per 18 mesi per il militare mentre on john hun se n'è andato al da john e quindi lo vedremo poi dopo insomma ci sono state anche altri piccoli acquisti ma insomma niente di parti particolarmente significativo un altro da sottolineare è han ki hun che viene dal busan i park ma insomma detto detto questo insomma che va anche lui come difensore centrale è stato preso principalmente come riserva io qui ho messo vedete al lato sulla sinistra del video della foto che state vedendo ho messo quelli che sono secondo me i principali sostituti è arrivato anche gomion sok come difensore centrale comunque cioi un gaun barcelos li wong wu come under 22 cioi min ki come altro under 22 gomion sok appunto e jang sung won secondo me dovrebbe partire inizialmente in porta a sung hon ma questo prendetelo veramente con grande beneficio di inventario perché non c'è alcuna certezza in questo momento in difesa kim jing yuk yoshin e kim kansan quest'anno kim kansan dovrebbe trovare molto più spazio difensore secondo me molto molto buono che quest'anno potrebbe fare molto comodo penso che si prenda a un prezzo tra l'altro ancora relativamente basso centrocampo con one j one che insomma tutti dicono in rampa di lancio dovrebbe essere il suo anno tutti ci aspettiamo che vada molto bene dall'altro appunto ha vinto con la nazionale coreana i giochi asiatici e quindi insomma ha in questo modo si è garantito l'esonero dal militare mentre al centrocampo direi titolarità per l'under 22 più importante che è rimasto in gol rosa park sejin lee jing yoon è un altro che se n'è andato a fare il militare al jim chun bobsin e a sinistro che non ha più suzuki che può infastidirlo come sostituto un ciu l'un altro che andatevelo a vedere insomma prezzo qualità per apporto qualità prezzo enorme davanti abbiamo cesigna sicuro del posto come secondo me anche gol j un si giocheranno il posto edgar e barcelos con probabilmente edgar come diciamo punto di partenza perché comunque una torre e può aiutare però insomma barcelos farà tanti minuti molto dipenderà ecco le rotazioni davanti un po come è successo nell'ultima parte dello scorso campionato dalle condizioni di cesigna che non dovrebbe partire in questa prima giornata passiamo al da john come dicevo andiamo in ordine alfabetico da john anna citizen guidati in panchina sempre da lee min sung allenatore molto volubile per quanto riguarda lo schieramento dei propri calciatori ha cambiato formazione tantissime volte un po alla stregua di vincenzo italiano con la fiorentina ovviamente non sto paragonando i due da un punto vista tecnico ma da un punto vista di gestione dello schieramento delle proprie forze in campo quindi io mi immagino che giochino con un 352 visto la rosa a disposizione con lì shang eon a ron calver arrivato dal guanju fc eon jiangun arrivato dal dego fc krivo tsuk centrocampo con khan yun sung da destra a sinistra lino guon che dovrebbe essere l'under 22 che giocherà di più lì su min neo capitano giusei young ex capitano pa jinseng esterno arrivato dal jean book via ghin chon e davanti kim sunday arrivato appunto dagli steelers dei poang steelers e gutkovskis che non siamo sicuri non nessuno di quelli che segue la carica è sicuro che giochi subito alla prima ci sono buoni indizi in questa direzione ma insomma teniamolo lì al limite ovviamente giocherà leandro libero leandro libero non dovrebbe partire titolare e potrebbe partire prima della chiusura della campagna trasferimenti invernale coreana perché non si è trovato molto bene l'anno scorso ha protestato molto ha fatto molte polemiche perché veniva utilizzato fuori ruolo e questa cosa non gli è piaciuta per niente altrimenti sarebbe ovviamente fondamentale per il deljon quindi al momento mi immagino che parta leggermente dietro a gutkovskis che invece insomma è stato preso per sostituire tiago e insomma dovrebbe andare molto bene mi aspetto molto anche da kim sunday devo dire devo dire la verità chio yumin è stato il grande problema di questa squadra perché è partito soltanto un paio di settimane per andare a giocare alla penisola araba era stato insegnito dei gradi di capitano e ci s'aspettava molto da lui insomma e se ne è andato lasciando la squadra così questo è il deljon campagna acquisti appunto livelli o nominati molto interessante e direi che è una squadra mentre il dagu cercherà di lottare per rimanere nella finale a il deljon quest'anno punta decisamente alla finale a non so se ci riuscirà c'è da aggiungere a questi calciatori anche farle rosa non l'ho messo perché non sta ancora bene fisicamente non si sa se potrà giocare subito viene da lasciare in super league dal jimman tiger però insomma vediamo vediamo insomma una formazione decisamente molto molto interessante fc sol che si dovrebbe schierare col 4 2 3 1 anche perché è arrivato kim jidong dopo le belle annate a pong stear sculminate l'anno scorso con la vittoria della corea della coppa di corea e il secondo posto in campionato quindi kim jidong dovrebbe schierare le fc sol col 4 2 3 1 si è visto così anche nelle prime amichevoli back john bomb in porta cioè questo grande punto interrogativo perché back john bomb dovrebbe andare con l'olimpica e quindi insomma sia nelle partite di qualificazione che ci saranno ad aprile sia quest'estate quindi se poi la corea del sud dovesse qualificarsi alle olimpiadi di parigi insomma sparirebbe quindi fin dall'inizio c'è anche la possibilità che choice all one giochi titolare a questo stateci molto attenti poi difesa che dovrebbe essere da destra a sinistra con choi joon è arrivato dal busan kim ju song wang yun su e lite soc lite soc rinnovato under 22 ci puntano tantissimo ovviamente perde osmar e la fc sol che è andato a giocare in k2 al se al sol il anda quindi è rimasto sempre nella capitale coreana sud coreana centrocampo con chi sui rinnovato anche lui vuole farsi un anno con kim jidong almeno prima di ritirarsi anse un ghiu e poi davanti davanti un po secondo me di dubbi ci possono essere palocevic credo che sia abbastanza sicuro del ruolo al centro dei tre dietro la punta centrale così come credo che choi un vuc sia un passo avanti rispetto al licenco che comunque avrà il suo spazio mentre per quanto riguarda i due esterni io direi che a destra parte davanti kang seong jin su essere under 22 lo aiuta anche e poi viene da un'annata un po così insomma deve deve dimostrare di essere una delle realtà e non più una grande promessa del calcio sudcoreano a sinistra l'arrivo di jesse lingard grandissimo acquisto acquisto più importante degli ultimi anni avvenuto in k1 farà sì che diciamo l'esterno britannico dovrebbe giocare titolare in quel ruolo però come ha detto kim jidong in un'intervista degli ultimi giorni c'è il rischio che abbia insomma solo il 30 per cento di da un punto di vista fisico per poter giocare quindi credo che ci sarà tanto spazio anche per william anche perché qui viene l'altro dubbio william potrebbe essere dirottato a destra per far per per sostituire canxi un giro quindi giocare sia con william che con lingard quindi attenzione comunque a questa cosa squadra successiva andiamo a vederci il gang won eccolo qua gang won che va di 4 4 2 in panchina di nuovo young one dovrebbe giocare con lì guan gion di guan gion che dovrebbe essere l'anti 22 che gioca tushi kim yung bin e yun su kyung in difesa centrocampo con li ji yuk hanku kyung kamia il nuovo arrivato giapponese che arriva dallo shimizu galego a sinistra e davanti vittor gabriel e l'altro and del 22 molto molto forte ve ne ho parlato spesso nella passata stagione lì su guan in questo caso il dao il gang won rischierà insomma di retrocedere lotterà per non salvarsi fino all'ultimo dal mio punto di vista anche perché la partenza per il militare di kim daewon e di seo min bu insomma sono difficilmente colmabili io penso che possa essere l'anno se proprio vogliamo indicare un giocatore di hanku kyung quindi dateci un'occhiata e anche insomma probabilmente anche dei brasiliani insomma galego vittor gabriel c'è da vedere poi se wellington si alternerà spessissimo con lì jiuk credo insomma che avrà anche il suo spazio iago carello lo vedo un po meno un po meno un po meno spazio questa squadra lotterà per l'altro c'è poco da fare discorso insomma mentre le fc sol che mi sono dimenticato dire per quanto mi riguarda lotterà per il titolo senza proprio tanti tanti dubbi andiamo a vedere poi il jim chon o gim chon dipende insomma dalla pronuncia che utilizzate la squadra dei militari ritorna in che one dopo un'annata splendida in che i due allora faccio una premessa sono arrivati molti calciatori forti già ce n'erano a luglio il 15 luglio verranno congedati quelli che sono entrati un anno fa quindi si fanno gli ultimi sei mesi qualcuno come c'è un book che ha vinto la coppa i giochi asiatici con la nazionale sudcoreana sono stati esonerati dagli ultimi sei mesi quindi molto difficile lo fu anche due stagioni fa quando il gim chon era in k1 fare una formazione titolare ogni domenica anche perché c'è comunque da rispettare la regola degli under 22 anche per loro io ipoteticamente penso che inizieranno così con cani un mu in porta 4 3 3 perché l'anno scorso hanno giocato in questo modo quindi presumo che continueranno a giocare così anche perché l'allenatore è rimasto lo stesso e chung yung yong quindi non vedo perché dovrebbe cambiare comunque cani un mu yung yu li sang min kim jv e park min kyu in difesa centrocampo con wong du jee kim jing yu e cani un mu che davanti kim in giù che penso che kim de wong giocherà subito anche se arrivato da poco e la punta io penso che l'ander 22 sarà lì un giorno ora ovviamente non ho scritto tutti i giocatori a disposizione del gim chon che sono tantissimi a devo darsi che ne venga fuori anche qualcuno che non ho scritto nell'elenco e kim dong yun secondo me il portiere che veda l'incheon partirà in panchina però anche lì ci sarà possibilità di grande alternanza che parsa un book non lo so se alla fine poi giocherà tanto in panchina così come le jing yong a centrocampo e comunque un under 22 lo stesso joe jen vu insomma squadra da vedere in corso d'opera io sulla carta andiamo al pronostico sulla carta secondo me questa squadra la squadra che potrebbe lottare per andare in champions fermo restando che non potrebbe andarci perché la squadra militare quindi potrebbe lottare per il titolo comunque per le posizioni elevate da classifica poi probabilmente ci sono anche degli ordini che arrivano dalla key league insomma a certo punto potrebbe anche improvvisamente cominciare a fare scari risultati scarsi come è successo due anni fa che la partita molto forte poi improvvisamente scomparvero lyon jee chow e sung e la squadra calo a picco e retrocesso giocatori da seguire one doge e kim jing yu kim jing yu fantasista incredibile poi rientrerà il john book insomma sarà da divertirsi ma anche one doge quando c'è per niente male andiamo a vedere prima della pausa che vi dicevo anche il guangio guangio che li ha riconfermato ci mancherebbe altro legge un ghi o dopo il terzo posto straordinario del 2023 immagino che si schiererà ancora con il 4 4 2 però qui c'è stata una vera e propria rivoluzione sono partiti principalmente i due difensori due dei difensori più forti che avevano sicuramente difensori più forti timo leskert ma è partito anche a ron calver che poi alla fine aveva trovato tanto spazio l'anno scorso quando timo si era fatto male ed è partito insomma lì su min a centrocampo quindi queste sono le partenze più significative direi insomma che non sono proprio facilmente sostituibili è partito anche bedinelli naturalmente e vediamo vediamo che cosa succede io credo credo che la formazione sarà questa ovviamente con beneficio di inventario come vi dico sempre kim che è un mini in porta dognun seok via un giù su che è uno degli under 22 discreti ottimi anche anzi direi che ha il guangio anche un lin min ki poi al centrocampo asani che è rimasto nonostante mille voci di trasferimento quindi asani comunque è un plus strepitoso per il guangio lì kang yun jean go yeon è un gi sung che è l'altro under 22 che giocherà a tisolare fisso davanti però io ho messo joao magno ma insomma non lo so davvero come andrà a finire c'è anche a yul dovrebbe giocare questi sono i probabili per metti isolari però detto questo bruno di vera gabriel tigrao non lo so ce ne sono tanti che lo stesso beca michel tazze che non ho messo qua perché dicesse sempre un po' infortunato e quindi insomma ma lo stesso arrivo di ciò che un rock che ha giocato in europa insomma che era stato preso per giocare al posto di asani insomma vediamo vediamo che succede ecco rispetto all'anno scorso il guangio secondo me difficilmente si ripeterà poi magari stupirà un'altra volta e andrà benissimo però vediamo insomma in difesa questo questo schema io l'avevo preparato prima che succedesse questa cosa ma insomma in difesa è anche arrivato alexander popovic alexander popovic dalla the lead united quindi al posto di bianju fu che io ho messo perché nander 22 potrebbe giocare popovic tanto comunque ci sarebbe a un gisung come under 22 ecco qua con l'inframmezzo inframmezzo fra sei squadre e le altre sei di k1 2024 l'analisi però l'ho già fatto sul telegram l'ho già fatto sul patron alcuni mesi fa condivido qua quello che è il blog che sostanzialmente tutti utilizzano per avere insomma diciamo sì un confronto con gli utenti coreani però ecco preciso è un blog quindi vale come tutti i blog valgono in italia banalmente in coreano c'è solo questo e quindi uno lo guarda per quel motivo lì ma insomma ci scrive da gg per a cottaro a martina la studentessa fin per passare a smandrupponi smandrupponis quindi nel senso non è una fonte di informazioni certificate questo lo dico perché magari a scanso d'equivoci poi qualcuno pensa che lo sia però insomma è un blog eccolo qua fm corea lo vedete lo scriverò qua nelle info di questo video vedete qua io ovviamente uso sempre chrome perché perché ho il google tradon del google traduttore e quindi questo mi aiuta a tradurre in automatico le pagine qui vedete potete scorrere potete andare a vedere tutto quello che che preferite c'è scritto informazioni su qualsiasi cosa vi potete sbizzarrire poi ovviamente dovete poi certificare la notizia insomma però ecco questo è fm corea detto ciò torniamo a occuparci delle nostre ultime sei squadre e lo facciamo andando a vedere l'inchion united aspettate che lo metto subito eccolo qua inchion united che dovrebbe schierarsi anche l'anno prossimo con il 343 anche perché l'allenatore è rimasto lo stesso non è stato cambiato quindi stiamo parlando di show sun one che insomma si spera vada a replicare la stagione dell'anno precedente l'anno scorso non è che sono andati malissimo per diciamo così anche le casse dell'inchion non è che sia una squadra ricchissima quindi la cosa interessante è che hanno sostanzialmente confermato la squadra dell'anno scorso i grandi cambiamenti sono arrivati ovviamente il primo di tutto il primo il primo di tutti in porta perché sono andati via entrambi i portieri quindi chi sia kim dong yun che l'ita e ui uno è andato al gimchion e l'altro in una squadra di che i quattro in porta hanno preso li bun su che viene dal bush on l'anno scorso ha giocato nel bush on fc in che i due ma insomma negli anni precedenti lo sappiamo insomma con esperienze anche al john book per un paio d'anni gang one insomma tutta una serie di grandi esperienze da parte sua in porta e soprattutto è tornato il figlio il prodigo il buon john jic john jic era arrivato in corea svariati anni fa era arrivato nel 2015 quindi si parla di nove anni poi insomma è rimasto un paio d'anni a inchion è andata a sereso poi ha giocato anche nello shenwa e poi insomma ha giocato l'ultima due stagioni proprio nel sereso rientra e credo che vada a comporre la linea di difesa con john jic kim dong min e derby c'è ovviamente li bun su in porta mentre per quanto riguarda il centro campo credo che a destra possa giocare giung dong yun con choi wu jin dall'altra parte come under 22 shinjin ho e lee myung joo al centro punto interrogativo ovviamente sul utilizzo di kim do yok davanti mi immagino che accanto o leggermente dietro a mugosa che sarà la punta centrale titolare potranno prendere trovare spazio sia gerso a sinistra che parkson ho altro under 22 a destra in tutto questo ovviamente visto anche le forze a disposizione e gli esperimenti che comunque ha fatto nel finale di stagione l'allenatore del linceon credo che si ci possa essere anche la possibilità di giocare con un 352 quindi qua ci immaginiamo kim do yok mi immagino che parkson ho a quel punto possa giocarsela con jung dong yun a destra e quindi insomma quindi a quel punto sarebbero tutti i giocatori più forti schierati un centrocampo spaziale è un attacco ottimo perché gerso con le due punte onestamente rende molto di più che da esterno quindi questo poi con mugosa insomma finalmente ha fatto tutta la preparazione mugosa e mi immagino che quest'anno possa fare una quindicina di gol ovviamente sarò smentito ma sono tra i 15 e i 20 gol quindi ecco ho visto i prezzi dell'inceon sono molto bassi per cui se avete intenzione di giocare in corea questo è la squadra che fa per voi perché comunque è molto forte ottimi giocatori che fanno grandi voti e state attenti anche due giovani che vi ho proposto perché choi wu jin e parkson go insomma hanno un futuro assicurato in panchina li vedete ci sono kim bosub davanti min ki anjon per il lato sinistro c'è kim jun yu ben poco kim do yeok e min saun jun che è il secondo portiere e andiamo adesso al jeju squadra che quest'anno dal mio punto di vista dovrebbe lottare per salire nella finale a o comunque essere lì e credo che non abbia niente di meno di altre squadre che abbiamo visto a un anno di lavoro a un anno di lavoro in più certo l'anno scorso non ha fatto proprio benissimo diciamoci la verità quest'anno ha fatto una campagna acquisti non troppo esosa kim akbun che è l'allenatore insomma ha fatto acquisti mirati ha preso un sostituto per kim don jun sai mai che succeda qualcosa a chanji dai blue wings è arrivato kim kim jong min al centro della difesa e poi è arrivato soprattutto kim te juan che io non ho messo titolare ho messo in panchina ora vi spiego perché è arrivato italo insomma diciamo acquisti acquisti mirati è da parte del jeju niente di particolarmente piativo però appunto ha un anno di lavoro in più di lavoro in più questo secondo me non può essere diciamo così tenuto in secondo piano probabilmente al posto di son jun che vedete lì giocherà appunto uno dei calciatori che ho nominato ma insomma è tutto 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 da vedere è in questi in questi momenti c'è penso a kim jong min che viene dal dal la neang dalla neang di che i due comunque kim don jun all'inizio penso che partirà rim chan gu poi dipenderà secondo me anche delle partite perché king taiwan comunque è molto forte molto interessante è l'omonimo che era l'ulsan che quest'anno al john book e che viene dal suo dei suoi l'im chai min son jun oppure appunto come ho detto kim jong min poi jong un oggi a sinistra race titolarissimo a destra centrocampo penso che possa partire dall'inizio italo però ovviamente anche qua ci sarà comunque kim jong un che potrà giocare tantissimo cioè un jun penso non c'è sempre una sua titolarità a sinistra penso che giocherà l'under 22 con su no anche perché sono nato tanti under 22 fortissimi il george davanti yuri e seo ginsù penso che sostanzialmente sarà questa più o meno la squadra che andrà in campo andiamoci a vedere uno dei delle squadre favorite per la vittoria del campionato il john book sempre guidato in panchina a dan pretescu quest'anno ha fatto veramente un una campagna acquisti monumentale portando in maglia nero verde hernandez lyon jay john bion guan tiago robo e appunto li vedete sono praticamente quasi tutti anche kim taewon naturalmente ma sono quasi tutti i titolari quelli di cui ho fatto il nome c'è anche da vedere lo stato di salute di huon chang kun però insomma vediamo io credo che questa sarà più o meno la squadra titolare kim jong un importa anche se c'è il grande qui non l'ho messo perché insomma però c'è il grande punto interrogativo come back del sol lui è addirittura il titolare della nazionale olimpica kim jong un quindi john min ki giocherà tanto a destra mi immagino che principalmente giocherà nion bomb perché è un po uno dei preferiti di dan pretescu però ovviamente c'è anche kim taewon a quel punto a nion bomb potrebbe giocare titolare a destra a centrocampo on jong ho e pagin so penso che saranno i titolari della difesa con kim jinsu prontissimo da esterno a sinistra i due centrali centrocampo penso che saranno lyon jay e lisubin con nana bua tang una volta rientrato dall'infortunio che potrebbe prendere il posto di lisubin poi mi immagino che l'under 22 sia john biong one che viene dal da john a destra hernandez naturalmente a sinistra però potrebbe anche essere lì jihun che gioca esterno a sinistra l'under 22 questo è da vedere anche un punto al centro campo potrebbe giocare lì dong june a destra solo che lì dong june a certo punto partirà per il militare quindi insomma situazione sulla corsia di destra non è proprio precisissima davanti penso invece non ci siano tanti dubbi che i titolari saranno tiago robo e sommi in più però avranno probabilmente anche molto spazio i vari ma insieme anche uon già è un te walk insomma la scuola forte la rosa è molto forte e io la do come una delle due favorite dai anche se mi potrei mi sbilancio come ho scritto su twitter è per me la favorita però dipenderà un po insomma dai fattori certa tanti fattori il primo è quello di vederli giocare tutti insieme questi nuovi ora in champions soprattutto all'andata negli ottavi hanno fatto benissimo e quindi perché non dovrebbero farlo poi anche in campionato subito dopo ci sono i pong steelers che hanno cambiato l'allenatore parta e e hanno venduto mezza squadra tra cui ricordiamo i principali sono i due centrali di difesa charlie e alex grant grant è andato in cina mentre c'è andata al lagoa grampus in j1 e poi davanti hanno venduto zeka tra l'altro si è purtroppo infortunato pesantemente al ginocchio e rimarrà fuori tutta la stagione quindi insomma tanti bocca al lupo a lui e goi un jun che insomma ragazzi anche perde goi un jun non è proprio il massimo che è andato al partita in serbia cambio allenatore e cambio modulo almeno questo è quello che ci ha proposto l'allenatore nuovo park tay ha sono arrivati alcuni giocatori da vedere insomma interessanti fra cui appunto aspro potamitis che viene appunto dall'australia come difensore centrale è arrivato l'altro difensore centrale che è lì donkey che invece arriva dalla k2 dal bush on mentre a post proposto smithis arriva dal mccartur e c'è il ritorno di eo eo young jun insomma tutto un po da vedere onestamente io direi che in porta gioca one in j poi ad agosto 15 luglio viene dismesso dal militare kang yu mu ci vorrà un po poi ad agosto cercherà di capire che cosa succederà la difesa dovrebbe essere lì dong gi parciani on gas propostamitis 3 5 2 a destra john won altro arrivo under 22 decisamente molto interessante viene dal busan 30 lo d'occhio eo young jun dovrebbe giocare lì an chan hi direi che il più sicuro dei titolari al centrocampo kim jun ho come under 22 e a sinistra il buon vecchio wanderson carvalho davanti mi immagino le due torri almeno così le fatti giocare nelle prime partite di champions teixeira e george teixeira teixeira insomma come si dice e lì oggi come vedete poi ci sono una serie di possibili giocatori da chi min sung a young young sang kim don jin yun seok ju shing kwan kun insomma secondo me bike che qui non ho messo ma insomma da centrocampo un su difficile in questo momento dire chi giocherà sicuramente titolare una squadra in costruzione in ricostruzione in ricostruzione gli steelers secondo me giocheranno per il sesto settimo posto saranno lì in linea di galleggiamento per la finale a arriviamo quindi al suon fc che per me è la squadra che probabilmente potrebbe retrocedere direttamente dipenderà da cosa decideranno di fare del kim chun squadra che non si è sostanzialmente migliorata se non pensiamo che comunque insomma l'arrivo di kuon kyung won dal gamba osaka dj one sia insomma un grande acquisto in difesa ricordiamoci l'anno scorso peggior difesa del campionato il suon e soprattutto il mantenimento di disangu però sono andati via li on j e sappiamo cos'è successo a murillo che è dato via a metà stagione e all'arts velvic che se n'è andato così dopo appunto la squalifica di milioni di giornate che la key league gli ha dato per essere stato colto in fragranza alla guida in stato di ebrezza anche kim yun che era l'alternativa all'arts se n'è andato quindi è stato preso gioco di pablo monreal lo vedete la formazione non lo so se giocheranno col 4-2-3-1 non si sa molto di ciò che è successo nelle amichevoli del suon è arrivato un allenatore nuovo kim e un jun e io mi immagino che possono giocare così comunque no dong jeon lyong jackson kuon kyung won e il nuovo arrivo indonesiano patrama ran sono molto curioso di vederlo al centrocampo kang sang yun under 22 in prestito al john book bit garam che è l'unica grande certezza di questa squadra kim do yun che dovrebbe essere lo vedete l'altro under 22 a destra lee guang yuk secondo me se la può giocare con jeon saong won che viene dai blue wings a sinistra lee saong ku si spera che finalmente col nuovo allenatore non ci sia più il problema del turnover e ovviamente giusepablo monreal dal suon fc passiamo dulcis in fundo all'ulsan squadra campione in carica di corea aggiustamenti che hanno ulteriormente migliorato la rosa se vogliamo cos un bomb a centrocampo era regista che probabilmente mancava dopo la partenza di park yung vu se n'è andato giun seong yung in difesa ma è arrivato once o co che ha già giocato molto molto bene e devo dire che non è stata completamente coperta la partenza di di vaco di valeri casasvili e va visto soprattutto se il nuovo arrivo kelvin in brasiliano preso al suo posto e soprattutto kim yu che arriva dalla scena di super league quindi questa sorta di staffetta fra vaco e lui lo saprà sostituire adeguatamente ricordiamo che vaco è stato grandissimo protagonista dei t due titoli di fila dell'ulsan ulsan che si dovrebbe schierare col classico 4 2 3 1 l'ha già riutilizzato a un mio buone le due partite di champions che abbiamo visto joe yung vu in porta se ogni un buo a destra kim ki hi quest'anno capitano che però dò il 50 50 con wazio coho kim yung won e li mi un ge mentre a centrocampo cos'è un bomb esaka potrebbe giocare da centrale anche zaka o al limite 50 per cento con li yu song però questo esperimento che abbiamo visto in campo nella partita di ritorno dei champions secondo me verrà utilizzato spesso anche perché ora io non ho scritto under 22 ma kang yung gu li al centro dei tre dietro la punta centrale è l'under 22 per eccellenza di questa squadra anche perché c'è un tech è andato via e quindi non ce ne sono altri di livello è un titolare a destra ea sinistra ludwigson con joe min q titolare centrale detto questo le rotazioni del reparto offensivo saranno enormi a destra c'è comunque anche lì dong young a sinistra abbiamo detto c'è kelvin kim yu può giocare anche centrale eventualmente e ci sarà sempre purtroppo l'alternanza fra joe min q e adam anche se poi adam andrà a giocarsi l'europeo e 15 min q avrà un paio di mesi in cui non avrà avversari anche se kim jin yu magari gli darà gli darà un po di fiato torniamo di là per le considerazioni finali vi ricordo se vi è piaciuto il video di lasciare un mi piace di cliccare sulla campanella per essere aggiornati dei prossimi che usciranno sul canale commentatelo anche se volete avere anche qualche delucidazione se volete avere qualche approfondimento ovviamente su quello che avete appena visto li vi ricordo di iscrivervi al telegram vi ricordo il patron asia e detto questo insomma viva la che league e buona che league a tutte e tutti ciao 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 ciao